Fare i conti con l'ambiente Ravenna 2016 è un interesse e un piacere. È interessante fare i conti con l'ambiente, è interessante lavorare con i colleghi di Labelab e con i loro portali. In questo caso stiamo ragionando sul tema dell'edilizia sostenibile e quindi sul tema edificio e città come veicolo e collettore di tematiche legate all'energia, legate ai rifiuti, legate alla gestione dell'acqua, legate ai materiali da costruzione, ancora una volta green e sostenibili. Mi sembra che è un bel evento, come sempre su Ravenna un bellissimo luogo dove parlare di sostenibilità e mi auguro che il percorso assieme con greening.com sia un percorso a maggior valore che metta in relazione delle community nazionali come quella di Ravenna 2016 con community internazionali come quella di Greening. Grazie